L'associazione Chic, Charming Italian Chef, ha dato il via al suo calendario di eventi per il 2018 e lo ha fatto con una cena a otto mani da Tartuffi & Friends a Milano. In cucina lo chef resident Luca Mauri e gli ospiti Emanuele Vallini della Carabaccia di Bibbona in provincia di Livorno, Andrea Alfieri del Chiostro di Andrea a Milano con la sua sous-chef Roberta Zulian. Il tartufo nero è stato il fil rouge che ha legato i piatti della serata, interessanti interpretazioni tra loro ben coordinate per gusti e intensità.